bene ragazzi qua c'è il mio collega eccolo qua il suo primo giorno di lavoro vieni bello un video ah fai video mi devo ricordare questo momento mio collega Alessandro primo giorno di lavoro di qualcosa al video? ciao grande Alessandro non si sbaglia collega bagnino oggi va in giù si fa il suo radio dalle 3 alle 7 vediamo a fine giornata mi fa sapere come è andata la prima giornata bagnino un saluto a tutti ragazzi perché piove già ha portato la pioggia ma ora ora è il sole a dopo Ale